Arresti domiciliari per un ventenne ritenuto responsabile di tre rapine a danno di studenti minorenni commesse nell'area della stazione ferroviaria di Porto Gruaro. Durante le indagini dei carabinieri sono stati individuati anche altri quattro ragazzi che hanno preso parte alle rapine. A loro è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal comune della durata di due anni, due avvisi orali, due divieti di accesso e stazionamento in determinati luoghi per ragioni di sicurezza della durata di un anno. Il provvedimento è il risultato degli accertamenti svolti in seguito alle denunce delle vittime dei tre episodi, che hanno permesso di identificare i cinque responsabili. Al momento comunque non si parla di una vera e propria banda, perché in ciascuno degli episodi accertati il ventenne avrebbe agito con la complicità di persone diverse. La questura di Venezia, motivando la firma delle misure preventive, ha spiegato che i destinatari avrebbero messo in atto furti, sopprusi e angherie a danno di altri giovani. L'arma dei carabinieri sottolinea invece l'impegno profuso non soltanto nelle operazioni di contrasto ai reati, ma anche nell'ambito della prevenzione, che include le attività di sensibilizzazione svolte negli istituti scolastici.